Ciao a tutti, questo è un video che volevo fare da un po', è un video che tratterà la tematica diciamo di una serie tv che da me era molto attesa, ovvero la serie tv Mercoledì, o se volete dirla l'inglese, ma io preferisco sempre parlare in italiano, Wednesday. Una serie basata appunto sul personaggio di Mercoledì Adams che tutti abbiamo imparato a conoscere attraverso prima la serie degli anni 60 perché ricordo che la famiglia Adams nasce intorno a quel periodo un po' per contestare l'idea di famiglia americana che c'era negli anni 50, insomma la storia dietro sarebbe molto lunga. Poi ci sono state una serie cartone dove addirittura Mercoledì la versita di Rosa, una specie di incrocio anche col cartone di Scooby-Doo, poi ci sono stati i film del 91 e del 93 che sono quelli che ci hanno fatto innamorare e poi ci sono stati anche i film, il film del 96 che però non avrà il cast originale perché dopo la morte di Raoul Julia il resto del cast non vorrà più partecipare al film, quindi Cristina Ricci, Angelica Justo e Christopher Lyod penso si chiami, che è l'interprete di Fester e quindi non vorranno più partecipare, ci sarà un nuovo cast che però non avrà molto a che fare con il precedente, nonostante Gomez sia interpretato a Tim Curry, che io trovo un attore fantastico però per quel poco che l'ho potuto vedere, non avrà lo stesso savoir-faire di Raoul Giulia. Con il film del 91 e del 93 ci siamo abituati a vedere una mercoledì con Cristina Ricci, una mercoledì fantastica, una mercoledì inquietante e ci siamo abituati anche a vedere una famiglia Adams particolare, una famiglia che pressoché è una brava famiglia, sono delle brave persone, solo con dei gusti un pochettino bizzari, ma sono delle persone comunque aperte, sono delle persone generose, abbiamo modo a che vedere anche nel secondo film quando accolgono in casa senza remore Debbie che poi si rivelerà un'assassina, io lo dico perché penso che chiunque abbia visto più o meno i film del 91 e del 93 che comunque trovate su Prime Video. Poi nel 2019 c'è stato un cartone che aveva un po' la tematica sociale dell'accettazione del diverso, non era un gran che ma era carino, era carino e aveva di nuovo la figura del Gomez originale dei fumetti che io non conoscevo e praticamente diciamo che era un Gomez basso, sporco e brutto, proprio brutto fisicamente, che viene riproposto in questo cartone del 2019, mentre quello del 2021 che sarà il seguito avrà una tematica molto particolare sulla genitorialità e devo dire che le tematiche, soprattutto quella del primo che è molto scontata, soprattutto in questo periodo, erano comunque interessanti, anche se abbiamo un po' nel secondo Fester che l'hanno reso un po' una macchietta quasi fastidiosa e mi è dispiaciuto perché comunque ha una sua importanza perché effettivamente nei film del 91 e del 93 è il protagonista di entrambi i film. Comunque andiamo alle ciance, parliamo di questo primo episodio di mercoledì, serie diretta da Tim Burton per la precisione i primi quattro episodi, io ripeto, ho già detto diverse volte che a me lo stile di Tim Burton mi metto un'ansia, io i cartoni che fa Tim Burton non li riesco a vedere, sto male, qualcuno l'ho visto, sono stata male per giorni e non dovresti star male per giorni dopo aver visto un cartone, ma probabilmente l'intento di Tim Burton era proprio questo e devo dire che con me è riuscito benissimo. E dopodiché abbiamo due film interessanti, Big Eyes, che è fantastico davvero, ve lo consiglio, trovate su Disney+, che parla della storia di una pittrice e del marito e di tutto quanto, il marito che vuole rubargli praticamente la carriera, è una storia interessante, e poi l'Evection di Dumbo che ho trovato molto interessante, io non conoscevo la storia originale e questa mi è piaciuta moltissimo. Però andiamo a parlare di mercoledì, l'Uense se lo volete dire all'inglese. Allora, primo episodio, recensione senza spoiler, anche perché sono arrivato al primo episodio, quindi... Allora, ci troviamo con una mercoledì interpretata da Jenny Ortega, che io non sapevo chi fosse, e bravina per quello che ho potuto vedere, brava, ha preso bene il personaggio. Abbiamo come preside della scuola, perché poi mercoledì andrà in questa scuola stile Harry Potter, a me piacciono molto i team drama, io amo tutti i team drama ambientati nei licei, cioè anche i thriller ambientati, a me piacciono un casino, mi piacciono tantissimo, quelli su un po' sul girone di Mean Girls, sul filone di Mean Girls, mi sono sempre molto piaciuti quei film. E però questo qua, devo dire che invece questa cosa di vedere mercoledì in ciucci amorosi, alle prese coi compagni, invece mi è piaciuto meno. Ma passiamo a quello che dovrebbe essere il resto del cast. Abbiamo una mortise interpretata da Catherine Zeta Jones, bellissima attrice, sicuramente, ma non ha nulla a che vedere con mortisia, innanzitutto perché è molto formosa a livello comunque di petto, cosa che invece mortisia non era, mortisia era longilinea, magra, e quindi non che Catherine Zeta Jones sia grassa, assolutamente no, però non ci vedo, non ha la fisicità per interpretare il personaggio di mortisia, ma neanche la recitativa, ce l'ho trovata strana come mortisia. L'attore che interpreta Gomez, che mi sembra che si chiama Luis Guzman, non lo so, io l'avevo visto in un film sui pirati, credo, una cosa del genere, quando ero piccola faceva quei film dei primi anni 90, insomma. Comunque è un Gomez decisamente esteticamente proprio brutto, diciamo, è proprio brutto. E devo dire che la cosa sfasa molto, ma non so tanto per l'aspetto, perché comunque, ripetiamo, il Gomez originale dei fumetti è così, ma proprio a livello recitativo, cioè non sembra la famiglia Adam, sembra una famiglia normale vestita di nero, non hanno né l'ironia, né la stranezza degli Adams, niente. L'Erch non sembra uno zombie, non sembra proprio uno zombie Pugsley, è stato sempre un personaggio poco caratterizzato, hanno voluto un po' caratterizzarlo nel primo film cartone, ma non ci sono neanche riusciti tanto bene, mi spiace, perché comunque ha proprio pochissima caratterizzazione come personaggio e anche qui c'è, ma è tanto capisco che la serie è incentrata su mercoledì, però è su questa scuola, questa scuola stile Harry Potter, che qua invece sono dei reietti, chiamati così. Poi in corso c'è un'investigazione, perché ci sono dei casi di omicidio che stanno avvenendo in questa cittadina. Insomma, la serie potrebbe anche essere interessante. Il problema di mettere un personaggio come quello di mercoledì a livello di un team drama, non mi piace, non mi piace questo personaggio nel team drama, non è che a me non piacciono i team drama, ripeto, a me piacciono molto, e se non ci fosse stata mercoledì come protagonista, magari mi sarebbe anche piaciuta la storia. Solo che mercoledì non è un personaggio che puoi mettere a fare gli intrucci amorosi, perché a lei queste cose non sono mai importate, cioè non ha mai importato di avere il fidanzato, di avere gli amici. Mercoledì è geniale per quello. È vero che nel film del 93 c'era questa specie di intreccio amoroso con il ragazzino che aveva tutte le allergie del mondo, però è una cosa veloce, è una cosa proprio velocissima, c'è un mezzo bacio e finisce lì, cioè d'altronde è quasi inesistente questa storia, perché poi si vede come lei comunque tratti la relazione, cioè la usi un po' a suo favore, e quindi voglio dire che poi di relazione non si può parlare. Insomma, non ho visto molto quello che mi sarebbe piaciuto vedere, nel senso la famiglia Adams non è la famiglia Adams, capisco che sono un contorno, però insomma non è la famiglia, è una famiglia normale vestita di nero. Gomez non dico che è tremendo solo per l'aspetto, perché ripeto i fumetti originali sono così e poi non è che se uno non è bello non deve lavorare come attore, quindi ci mancherebbe. Però a livello recitativo non mi piace, non mi piace neanche la Catherine Zeta-Jones non in questo ruolo, era bellissima in Zorro, ma non c'entra niente con questo ruolo. Proprio per niente, Lerce non si capisce, a me sembra una normalissima persona, più normale di tutti là, quindi non ha niente del mostro che vedevamo nei film degli anni 90. Compagne di scuola di mercoledì, ne vediamo in particolare una biondina, sono singolari, appunto, sono divisi in quattro gruppi, se non erro, a caso strano come le casate di Harry Potter. Poi c'è un po' di Riverdale che io mi sono stoppata dopo un po' perché mi stavo annoiando e c'è un misto tra Riverdale, Harry Potter e la famiglia Adams che ci hanno voluto buttare dentro. Quindi sì, la finirò perché sono comunque curiosa, perché sono affezionata alla famiglia Adams, ma se dovessi dire che è quello che mi aspettavo vi direi di no, sicuramente. Mi ha fatto piacere che io un cameo c'è Cristina Ricci, che era la mercoledì dei film del 90. Mi dispiace molto che non gli abbiano fatto interpretare Mortizia perché sarebbe stato interessante vedere lei nei panni di Mortizia, dato che lei era stata mercoledì. No, è una specie di evoluzione. Però ho pazienza. C'è Gwendoline Christie che fa la preside, che è la Brianne del Trono di Spade, che qua gli hanno messo un po' di rossetto perché mentre nel Trono di Spade doveva sembrare un uomo, qua deve sembrare più donna e ha un aspetto effettivamente molto sofisticato, ma rimane sempre comunque avere un po' dei tratti un pochettino più maschili. Ma penso che questo non c'è molto col personaggio perché effettivamente anche lì è un personaggio che devo ancora cercare di capire quello della preside. E basta ragazzi, io direi che è così, aspettiamo di capire come sono gli altri episodi per poi fare una recensione più completa. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto!